Buon pomeriggio e bentrovati a tutti Buon pomeriggio Aurora Oggi come al solito lo sapete Iniziamo sempre dalla politica Ieri abbiamo parlato di diritti E abbiamo accennato a delle elezioni importanti Che si svolgeranno in primavera Si tratta delle prossime elezioni per il sindaco di Roma Abbiamo visto qual è l'opinione delle deputate del Partito Democratico Alessandro Zan rispetto a una delle possibili candidate alle primarie del Partito Democratico Monica Cirinama Anche oggi si è visto come ancora Tutto un processo in itinere Oggi abbiamo deciso di ospitare un candidato a sindaco di Roma giovanissimo Un politico giovanissimo Forse più giovane di lui non l'abbiamo mai incontrato Forse non voglio sbagliare Credo che sia uno dei candidati più giovani della nostra storia italiana Sicuramente è di Roma Ne avrete già sentito parlare Si tratta di Federico Lobuono Candidato a sindaco di Roma Per la lista civica Il progetto La Giovane Roma È qui con noi Lo saluto Buon pomeriggio Federico Buon pomeriggio Grazie per l'invito E buona giornata a tutti Grazie a te per averlo accettato Federico Eccoci allora Raccontaci un po' di più Innanzitutto partiamo dalla domanda canonica Credo che hai risposto più e più volte a questa domanda Ma perché hai deciso di scendere in campo a 20 anni? Beh la risposta è semplice Ma allo stesso tempo complicata da articolare Noi ci siamo stancati della retorica per la quale i giovani sono il futuro Arriverà un giorno il nostro momento Ma ad oggi il compito di gestire, di organizzare aspetta a qualcun altro Bene noi siamo stanchi di questo Pensiamo che per incidere sul futuro si debba essere partecipi fin dal presente Ed è per questo motivo che assieme ad un gruppo di ragazzi e ragazze Under 25 Abbiamo deciso di lanciarci in questa sfida difficile, impegnativa Che ci vedrà coinvolti ogni giorno nelle strade, nelle piazze, sui social Per cercare di convincere tanti romani a credere nel nostro progetto Ma nella quale noi già da oggi crediamo tantissimo Ecco Federico, innanzitutto io mi trovo un pochino in difficoltà a darti del tu, del lei Datemi del tu per favore Perché sei davvero giovanissimo Sei del 2000 Sei del 2000 Un vero e proprio millennials davvero E questo sicuramente ti fa onore il tuo interesse alla politica Allora tu hai detto che hai pronta una squadra di giovani, tutti Under 25 Ma qual è il vostro valore aggiunto? Beh questa è una domanda giusta Nel senso che uno dice sì vabbè ok bene sono giovani A volte visto come un punto in più, un vantaggio Altre volte invece visto come uno svantaggio, una critica Ci viene criticato, veniamo spesso criticati per la nostra età Beh a chi mi critica per la mia età io rispondo che non sono stati i giovani a portare Roma in queste condizioni Dopodiché io in questo paese, in questa città ci starò ancora per molti anni Tra 40 anni sarò ancora qui Non so quanti politici oggi possano dire di poter avere una visione così a lungo termine Dopodiché è chiaro che non ci possa essere semplicemente un ragionamento dal punto di vista anagrafico Serve anche un punto di vista in termini di competenze, in termini di contenuti Bene io mi sono stancato di sentire nei talk show un sacco di persone parlare della movida Tranne chi la movida la fa Parlare di trasporto pubblico Tranne chi il trasporto pubblico lo prende Bene noi non è che arriviamo noi e diciamo bene tutti i problemi di Roma ora li risolviamo No però iniziamo a portare delle proposte concrete, delle idee della nostra generazione Affiancandoci però a figure professionali, a esperti, persone di fama conclamata Manager, amministratori delegati, persone che nella vita hanno fatto Perché per esempio mi viene in mente il tema del trasporto pubblico Non c'è scritto da nessuna parte che il trasporto pubblico debba essere in perdita Bene prendiamo qualche esempio di qualche realtà Non serve nemmeno allontanarsi molto da Roma, basta guardare nel Lazio Ma noi ovviamente abbiamo preso esempi nazionali ed europei E prendiamo queste persone, mettiamoceli a fianco e facciamoci spiegare da loro come si possono risolvere questi problemi Ecco Federico a proposito proprio di questo oggi è uscito un grafico molto interessante sulla Repubblica Lo mandiamo un attimo in sovraimpressione così lo vedi anche tu Si tratta di quali dovrebbero essere le priorità per il prossimo sindaco secondo i cittadini romani Repubblica ha fatto un sondaggio, hanno aderito 4.000 persone che hanno appunto espresso la loro opinione su cosa dovrebbe cambiare Il 26% vorrebbe che si risolvesse il problema annoso della spazzatura ad esempio Ecco andiamo veramente per temi per capire quali sono le vostre proposte Sui rifiuti che è un problema veramente annoso per la città Voi che cosa vuoi dire? Che proposte abbiamo? Sono molto contento che si vada nel concreto Poi permettetemi di dire una cosa Spesso noi abbiamo pubblicato sul nostro sito www.lagiovaneroma2021.it Una serie di nostre proposte tra cui anche questi argomenti che voi avete citato A cui ora do dei mini tweet di risposta E' importante dire una cosa però Ci attaccano perché dicono Eh vabbè ma voi dovete presentare un programma elettorale prima di Mi dite dov'è il programma del Partito Democratico Mi dite dov'è il programma della Lega Mi dite dov'è il programma di Forza Italia Mi dite dov'è il programma dei 5 Stelle Noi delle proposte ce le abbiamo e iniziamo a parlarne Sul tema dei rifiuti che mi sembra essere uno dei più sentiti Roma ha l'attari, la tassa sui rifiuti più alta di tutta Italia Cioè nonostante non mi sembra che il problema sia affrontato nella giusta maniera Noi vendiamo, cioè paghiamo altre regioni per prendere i nostri rifiuti E non è detto peraltro che continueranno a farlo Quando non si fa alcun tipo di ragionamento invece su quella che deve essere l'ottica futura Cioè l'idea di potenziare il servizio di raccolta differenziata a partire dal porta a porta Sul tema per esempio del termo valorizzatore noi siamo sicuramente favorevoli Mentre siamo contrari per esempio all'attivazione e creazione di un inceneritore Però ritorniamo a parlare un attimo di raccolta differenziata C'era un esempio a Roma di successo Colle Aniene coinvolgeva 17.000 romani Notizia dell'altro giorno, si è fatto un passo indietro Via raccolta porta a porta Torniamo alla raccolta tramite i classici bidoni dei rifiuti E' chiaro che non si possa andare in questa parte Leggevo un altro punto molto sentito dal grafico di Repubblica Il tema del trasporto pubblico Allora io vi dicevo prima, non è scritto da nessuna parte che un trasporto pubblico debba essere in perdita Ma mi spiegate per quale motivo a Londra sull'autobus si sale davanti e si scende di dietro Mentre a Roma questo non lo si può fare Perché non creiamo un modello stile Oyster Card Per chi è stato a Londra, comunque conosce quella realtà, sa come funziona Sali, timbri, fai passare la carta da un lettore, ti vai a sedere Se non paghi il biglietto l'autobus non parte E' possibile fare una cosa del genere anche a Roma Abbiamo esempi nel Lazio, mi viene in mente Cotra Abbiamo esempi fuori dal nostro paese Servono proposte concrete che non siano chissà che grandi riforme Che uno dice, wow si sono inventati una genialata Leggete il nostro programma, lo trovate sul nostro sito Non ci siamo inventati nulla Prendiamo cose che già si fanno in città anche più grandi di Roma Anche più complicate di Roma E diciamo bene, perché non lo facciamo anche noi? Ecco Federico, a tal proposito hai citato Londra Sicuramente una delle capitali del mondo più grandi E forse anche meglio gestite per quanto riguarda i trasporti E mi viene da pensare a Londra che piove molto molto spesso Non credo si allaghi mai una metro come invece accade a Roma Tu hai parlato di autobus E invece per quanto riguarda appunto il trasporto sotterraneo? Beh è chiaro, ma allora l'esempio che fate Dell'allagarsi della metro è un caso emblematico Ma non è che ogni volta che c'è del maltempo a Roma La città si deve bloccare Permettetemi di aggiungere all'esempio correttissimo che avete fatto Anche l'esempio della manutenzione degli alberi Ecco infatti scusami, un altro punto Il terzo punto, il 16% dei 4.000 intervistati Ritengono prioritaria appunto la cura dei parchi e delle aree verdi Ragazzi, cioè ma è possibile, serve manutenzione E allora qual è il motivo per il quale non si fa manutenzione? E il comune dice vabbè non ci sono soldi Allora perché non diciamo per esempio Non organizziamo i quartieri in modo che i cittadini Si prendano anche cura degli spazi pubblici Poi uno dice sì vabbè però scusatemi Ma non è che devono essere i cittadini a fare questo Sono d'accordo ma tra il degrado più totale E invece una collaborazione tra comune e cittadini Preferisco tutta la vita la seconda Leggevo anche sempre nel vostro grafico Il tema della riqualificazione Del grafico di Repubblica Il tema della riqualificazione degli spazi Pensiamo per esempio Ora molti parlano della questione dello stadio di Roma Tema fondamentale Che varrebbe la pena approfondire E fare addirittura un'altra intervista assieme Per parlare solo di quello Però lasciamo un attimo da parte Il tema del nuovo stadio di Roma Perché non pensiamo invece anche A come possiamo riqualificare E vedo qua il punto Riqualificare uno spazio che già esiste Che è abbandonato Come per esempio lo stadio Flaminio Devo dire Il carisma assolutamente non ti manca Andiamo avanti E parliamo dei tuoi Scusatemi che leggo nel grafico Io non l'avevo vista E vi ringrazio anzi per averlo segnalato Riguarda Ecco qua Lavorare per portare a Roma Capitale internazionale E grandi eventi Bene Allora se voi mi chiedete per esempio Un parere sulla sindaca Raggi Io vi dico che per esempio Sul tema della legalità Quando ha cacciato via I Casa Monica Per me lei ha avuto il coraggio Che tante persone prima di lei Non hanno avuto Sul tema delle olimpiadi Là si parla di grandi eventi Per me invece è stato commesso Un errore Non tanto per il dire Noi le olimpiadi non le facciamo Quello è legittimo Una città si sveglia E dice No le olimpiadi non le vogliamo fare Ok L'errore secondo me Sta nel dire Noi non facciamo le olimpiadi Per paura della corruzione Se una città si ferma Per paura della corruzione È una città morta Ecco però su questo Lei ha cambiato idea Perché adesso invece Ha aperto ad Expo Infatti E quella invece mi sembra Mi sembra Ora non so Ogni volta cambia sempre idea Sono contento che si sia ricreduta su questo Sono molto contento Però quando parliamo anche No parliamo del Leggevo anche Attrarre investimenti da fuori Sono d'accordo Ma prima di attrarre investimenti da fuori Dovremmo assicurarci Che le realtà romane Che hanno una sedia a Roma Non vadano via Mi viene in mente l'esempio di Sky Come sapete Sky Fino a non troppo tempo fa Aveva una sedia a Roma Hanno deciso di spostarla a Milano Bene là il sindaco Avrebbe dovuto alzare il telefono Chiamare l'amministratore delegato di Sky Dirgli cosa ti dà Milano Ti diamo il doppio Credo che l'abbiano fatto Ma più che altro Roma Forse non se lo può permettere Di dire Ti diamo il doppio Rispetto a Milano A Milano non lo so Però questo Sono tutte le nostre deduzioni e ipotesi Federico Ti volevo prima chiederti Parliamo un attimo Dei tuoi possibili sfidanti Vabbè la Raggi è certa Invece nel PD Si sta ancora ragionando Sui nomi delle primarie Una su queste Certa è Monica Cirinna Senatrice Esponente del Partito Democratico Che per lo più È intervenuta proprio questa mattina In ospite in radio Radio Cusano Campus Io ti vorrei far sentire Che cosa ha detto E poi lo commentiamo insieme Visto che le primarie Sono statunarie Se e quando si faranno Io ci sarò Non mi sembra D'aver fatto Chissà quale Come dire Strappo E io sono una delle dirigenti Più note in Italia Del mio partito Che ho fatto una legge complicata Che combatto Sustemi difficili Che ho una legge Con il mio nome Che è una fortuna Che capita a pochi Allora la domanda È la seguente Per quale motivo Lo stato maggiore Del tuo partito Ti ignora O comunque Se non si ignora Cerca in qualche modo Di sostituirsi Con un altro nome Intanto sono usciti Solo nomi di uomini E questo già Come dire Un retropensiero Me lo fa fare Sotto sotto Questo PD Sulle donne Ha ancora un sacco Di problemi Se c'è uno più forte Di me Sono contenta Se trovate un avversario Alla mia altezza Sono contenta Almeno cominciate a muovervi Ma fate un sondaggio Ma il PD Roma Faccio un sondaggio Io le dico perché Non sono preoccupata Perché tutta la vita Ho usato il metodo Delle fornite Le fornite Sono potentissime Perché sono migliaia E nessuno È leader di se stesso Federico Allora che ne pensi Tu ci sei stato Nel partito democratico Per poco Però hai avuto Io capisco benissimo Quello che lei dice Lo capisco benissimo E su due punti Sono molto d'accordo Con lei Io Sono stato iscritto Al partito democratico Sono stato iscritto A Italia Viva E ho lasciato La struttura Dei partiti Perché sono Delle scatole chiuse Se uno ha voglia Di fare Di provare Di mettersi in gioco Viene bloccato Da quei sotto ufficiali Mediocri Che stanno lì E appena vedono Un minimo di talento Un minimo di voglia Di mettersi in gioco Un minimo di voglia Di provare Sono lì pronti A dire No 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 Fermi Fermi tutti Fermi tutti Sta là Rispetta La fila Stai al tuo posto Io lo capisco benissimo Io penso che Sono questioni Che dovranno risolvere Loro internamente Però trovo che sia giusto Fare le primarie Quindi Non vedo Per quale motivo Non farle Io quando ero iscritto Al PD Anzi Sono sempre stato Un grande sostenitore Di questo Strumento democratico Quindi è giusto Che le facciano Sul tema delle donne Di cui la senatrice Cirinna parla Anche lì Io mi sento Di condividere Questa sua battaglia Noi abbiamo deciso Di fare più Di quello che la legge chiede La legge chiede Di carindidare Il minimo Un terzo Di donne All'interno Delle liste elettorali Noi abbiamo deciso Di fare 50 E 50 Perché in un paese In cui una donna Deve impegnarsi Il doppio Per dimostrare Di valere La metà di un uomo Allora noi vogliamo Fare uno sforzo in più E dire bene Noi facciamo 50 e 50 Ecco Ma a me viene Una domanda Noi abbiamo visto Poi come si è sviluppata La politica italiana In questi anni Ecco Ma tu pensi Che la giovane Roma Non rischia poi Di diventare un partito Lo stiamo vedendo Col Movimento 5 Stelle Si sono comunque Presentati All'opinione pubblica Come qualcosa di diverso Dai partiti Proprio per scardinare Questo meccanismo Che tu racconti E adesso Lo stiamo vedendo Proprio in questi giorni Come sia difficile Poi andando avanti Negli anni Mantenere questa libertà Questa flessibilità Tu che ne pensi Del tuo progetto Io penso che E ve lo dico In tutta chiarezza E senza girarsi attorno Noi abbiamo ambizioni Molto grandi Siamo partiti da Roma Ma l'obiettivo È quello di prendere Adesso Roma Dimostrare Che la nostra generazione Conta Vuole contare E replicare L'iniziativa A livello nazionale Quindi Per noi Questo è Un lancio Dimostrare Dalla capitale Che è possibile Far partire Qualcosa di diverso Perché Sono i 5 stelle Permettetemi Di sottolineare Non dicevano Noi portiamo I giovani In Parlamento Dicevano Noi portiamo I cittadini Che oltre a essere Diversi È anche un punto di vista Per noi sbagliato Noi facevamo prima L'esempio Servono competenze Quindi assieme A questo team Di giovani Volenterosi Che hanno voglia Di mettersi in gioco Eccetera Ci facciamo affiancare Da persone Che hanno fatto Esperti Che pubblicamente Vengono presentati Perché non è che Sono delle persone Ma chissà Che ci sono questi esperti Magari qualcuno Di qualche partito Sono persone Al di fuori Del mondo della politica Che decidono Di darci una mano E noi con questo Individuati già qualcuno? Ne abbiamo individuato Già qualcuno Anzi Vi dico di più Uno ve lo dico L'abbiamo già annunciato È Simone Aridolfi Amministratore delegato Di Muvenda Che ci aiuterà Per la parte Che riguarda il SID Ovvero Sbrucratizzazione Innovazione E digitalizzazione Ma se a voi va Qualcuno di questi Lo annunciamo qua Da voi Nelle prossime settimane Ah certo Nelle prossime settimane Nelle prossime settimane Non ci vuoi Già dire nulla Però magari qualcuno Lo annunciamo insieme Nelle prossime settimane Vediamo Se vi va Assolutamente Ci andrebbe di sentirla adesso Qualche Non si può? Ne abbiamo presentato uno L'altro giorno Alla conferenza stampa Dobbiamo Andiamo piano piano Va bene Va bene Anche la comunicazione Vedo che comunque È gestita In modo rigoroso Siamo molto attenti Siamo molto attenti Federico invece Che cosa ne pensi Dell'apertura Di Zingaretti A una possibile alleanza Tra il Partito Democratico E il Movimento 5 Stelle Nella corsa al Campidoglio Io penso che Ripeto che queste Sono dinamiche interne Che devono gestirsi loro Dopodiché Secondo me Il Partito Democratico Può andare benissimo Da solo Non capisco Questa necessità Di voler fare Questo accordo Mi sembra Che le elezioni Abbiano Le regionali Abbiano dimostrato Che il PD Va molto meglio Da solo Rispetto che Col Movimento 5 Stelle E soprattutto Mi sembra Di aver capito Che queste elezioni Abbiano anche dimostrato Il fatto che I singoli candidati Se coltivano bene Il loro elettorato Sono molto più forti Dell'intera struttura Di partito Mi viene da pensare A Toti in Liguria A Zaia in Veneto All'esercito Di Listeri A favore di De Luca In Campania Eccetera Ecco Ma Chi ti fa più paura Rispetto ai possibili Attori in campo Non ci sarà Solo il Movimento 5 Stelle Il Partito Democratico Ci saranno candidati Anche a destra La destra è forte Poi Nel Lazio E soprattutto a Roma C'è qualcuno Che ti preoccupa di più? No Non c'è nessuno Che noi Riconosciamo Le difficoltà Di questa sfida Giochiamo per vincere Perché sia chiaro Noi giochiamo per vincere A chi ci chiede Che accordi Abbiamo in mente Vi avviso Il logo della Giovane Roma Lo vedrete Sulla scheda elettorale Abbiamo intenzione Di arrivare fino in fondo Dopodiché Riconosciamo Le difficoltà Di questa sfida Però siamo pronti A metterci in gioco Per ottenere Il risultato migliore E dove vi collocate? Più a destra O più a sinistra? La tua esperienza È a sinistra La mia esperienza Ovviamente È un'esperienza Di centro-sinistra Dopodiché Io non rinnego Il mio passato Dopodiché L'idea È quella Di fare Qualcosa Che riesca A coinvolgere Più realtà Io faccio Un appello A tutti i movimenti Giovanili Che ci sono In Italia A Volt Ai giovani Federalisti europei Ai movimenti ambientalisti Facciamo un progetto Che sia di tutti Il mio sogno Sapete qual è? Quello di fare Una grande coalizione Con tutti i movimenti Giovanili Tutti quanti insieme Per dimostrare Alla politica Che la nostra generazione Vuole incidere adesso E allora Mettiamoci tutti insieme Voglio proprio vedere Se poi Non iniziano a prenderci In considerazione Federico Hai detto che sei pronto A metterti in gioco E noi adesso Vorremmo proprio Farti fare un piccolo gioco Perché nei giorni scorsi La sindaca Virginia Raggi Che anche lei Sarà una tua sfidante Sempre se rimane Non si sa mai Perché In questi giorni Si è prestata Un gioco di Radio Rocchi Che noi vorremmo ripetere Con te Guardiamolo un attimo No Mi fate cantare Buongiorno Troppo alto Bravissima Sindaca Federico Allora In attesa Dello scontro Alle urne Ti va di fare Uno scontro canterino Ma io sono Io sicuramente Perdo Sicuramente Dopo che io Mi presto a tutto Ma magari Sarebbe più opportuno Farlo Non in collegamento Ma però va bene Ragazzi Io mi prego Io figurate Anche perché tu sei di Bari Devi far vedere Che sei un po' romano Altrimenti non ti votano Va bene Va bene Quando lo facciamo? Ora 3 A cappella Dai un piccolo Non la so a memoria Non posso cantare A cappella Roma Non fa la stupida Niente Ma la regia Non ci aiuta Almeno Mi serve Mi serve Un supporto Ragazzi A cappella È proprio complicato Va bene Dai Dai Già che ti è riprestato Facciamo così Facciamo così La prossima volta Insieme ai nuovi Facciamo così La prossima volta Se volete Vengo da voi in studio E la cantiamo insieme Perfetto Con la nuova canzone E i nuovi esperti Che faranno parte Che vi assisteranno In questa corsa Al Campidoglio Federico Noi ti ringraziamo tanto Grazie 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 veramente Ringraziamo Federico Lobuono Candidato a Roma Con la lista La giovane La giovane Roma Grazie davvero Per essere stato con noi E in bocca al lupo Per il suo lavoro Grazie Ciao a tutti A presto Eccoci Non ce l'abbiamo fatta Niente Ci siamo messi Proprio Dobbiamo trasformarle In talent show E invece niente Dobbiamo rimanere Per forza seri Poi daranno la colpa A me In redazione Ma non è così Questa volta Non è colpa di Diana Assolutamente Allora Qualche minuto Di pubblicità E poi ritorneremo Con la seconda parte Ed eccoci tornati Dalla pubblicità Vi abbiamo abbandonato Veramente solo per qualche minuto Dopo una prima parte Veramente scoppiettante Perché il nostro ospite Il candidato sindaco a Roma Lo buono Federico Lobuono È stato veramente Scoppiettante Guarda Non trovo l'altro termine Più adeguato Davvero È stata una scoperta Veramente Particolosa Curiosa e particolare Assolutamente Adesso Come vogliamo che sia Ogni martedì Il secondo spazio Sarà dedicato Agli esteri Per fare un punto Sulla situazione Un punto settimanale Su quanto accade Oltre I nostri confini E lo faremo Nella prima parte Con il nostro collega E in una seconda Con il nostro ospite Ma ci spiega qualcosa di più Aurora Andiamo subito Diamo subito la linea Appunto a Lorenzo Capezzuoli Ranchi Che ci farà Un escurso Su un punto Di quella che è stata La settimana Oltre i nostri confini Eccoci allora ragazzi Buongiorno Diana Buongiorno Aurora Apriamo subito Questo spazio Del martedì Dedicato agli esteri Non possiamo Non partire Parlando degli Stati Uniti Perché Non tanto per il coronavirus Di cui parleremo dopo Ma perché sono arrivate Le dimissioni Dall'ospedale Del presidente americano Donald Trump Lo ricorderete Trump era stato Visto positivo Al covid Era stato Verificato La sua positività Attraverso il tampone E poi è stato Dimesso Nella serata di ieri La serata di ieri americana E prima però De queste dimissioni C'è stato Un giro Fuori dal Da quanto era stato Pensato Inizialmente Un giro del presidente americano A bordo Della sua jeep Corazzata Perché? Perché voleva salutare I suoi sostenitori Che erano centinaia Centinaia le persone Che si erano Ammassate fuori dal Walter Reed Medical Center Prima poi di rientrare In ospedale Per poi Esserne dimesso Come potete vedere Questo è il Marine One L'elicottero presidenziale Che su cui Trump È salito Poi per essere portato Alla Casa Bianca E lì Alla Casa Bianca Vedere da queste immagini C'è Trump Che sale sulla balconata E poi Ha fatto una cosa Un po' particolare Cioè Si è tolto La mascherina La mascherina chirurgica Con cui Si è prima fatto vedere Come avete visto In queste foto Poi se l'è presa E se l'è tolta Dall'orecchio destro All'orecchio sinistro E poi Come potete vedere Ha salutato E si è messo in posa Per i fotografi Un presidente Che ha detto Ha imparato molto del covid Eppure Sembrava molto provato Nonostante Cercasse di rassicurare Tutti quanti Con il segno Del doppio pollice In su Come a dire Tutto ok Eppure Trump sembrava E' apparso Ai giornalisti Molto provato Come potete vedere Da queste immagini E tanto è cambiato Se ci pensiamo In una sola settimana Per quanto riguarda Gli Stati Uniti Gli Stati Uniti Che proprio Martedì scorso Hanno fatto Hanno visto in televisione Il primo duello Il primo vero scontro frontale Fra il presidente In carica E lo sfidante Joe Biden In un duello Che è durato Ricordiamo 90 minuti In cui non sono mancati I battibecchi Gli insulti E si sono parlati due Uno sopra l'altro Fino a che Biden Ha detto pure Will you shut up man Vuoi stare un attimo zitto Amico Come a dire Che era un po' troppo Esagerata Alla tensione lì dentro Ma poi Oggi è una giornata Anche molto importante Perché siamo Quasi arrivati Al duello Un altro duello Questa volta Fra i due vicepresidenti Un duello Che si terrà Domani sera Nella città di Salt Lake City All'Università Dello Utah Dove si sfideranno Mike Pence Per il tandem Repubblicano E Kamala Harris Per il ticket democratico Che cerca Di ottenere La casa bianca Ricordiamo Che le elezioni Sono previste Per il prossimo 3 novembre Quindi mancano Esattamente Quattro settimane Domani si terrà Questo dibattito Cosa aspettarsi Da questo dibattito Sicuramente Uno scontro più educato Uno scontro più politicamente Corretto Fra i due Che non Dovrebbero risentire Di invece Di tutte quelle Scorrettezze Di tutte quelle Litigate Che ci sono state Fra Trump E Biden La scorsa settimana Poi Bisogna parlare Anche di Kamala Harris Perché Kamala Harris Lo ricordiamo È la prima Vicepresidente La prima candidata Vicepresidente Indo Afroamericana La mamma infatti Di Kamala Harris È indiana Il papà è di origini Giamaicane E lei è la prima Candidata vicepresidente Indo-afroamericana Ricordiamo poi Che la Harris Dovrebbe partire Anche leggermente Avvantaggiata Dal punto di vista Di questo dibattito Perché Kamala Harris Prima di essere La running partner Di Joe Biden Era l'avvocato Generale Dello Stato americano Della California Quindi forse Dovrebbe essere Un po' più preparata E un po' più Pratica anche Per quanto riguarda I dibattimenti E le sfide Elettorali Di certo Dall'altra parte Si troverà Ad affrontare Mike Pence Mike Pence Che prima di essere Nominato vicepresidente Da Trump È stato Il governatore Dello Stato americano Dell'Indiana C'è da dire Che poi Mike Pence Non ha molta esperienza Perché prima di essere Laureato in giurisprudenza Sì Ma prima di essere Il governatore Dello Stato Dell'Indiana Carica che ha tenuto Fino al 20 gennaio Del 2017 Ha fatto 14 anni Ha fatto 14 anni Come rappresentante Un svantaggio Uno svantaggio Che il sondaggio NBC Wall Street Journal Indica in 14 punti 14 punti Che separano Il 39% Che hanno raggiunto Biden Trump e Pence Contro il 53% Che potrebbero Secondo questo sondaggio Conquistare Biden e Kamala Harris Ricordiamo poi Che questa forbice È la più La più grande Da quando È stato fatto Il sondaggio Da quando ci sono Questi sondaggi E soprattutto È stata Una forbice Che si è allargata Ulteriormente Di quasi 8 punti Rispetto Alla sfida Del televisiva Che si è tenuta Martedì scorso Fra Trump E Biden Passando poi A parlare Delle altre parti del mondo Non possiamo non parlare Dello scontro Che c'è in atto Fra Armenia E Azerbaijan Nella zona Del Nagorno Karabakh Al confine Fra questi due paesi Come potete vedere I conflitti Il conflitto È molto pesante Sta riscuotendo Un numero Elevato di feriti Di vittime Ma soprattutto Di danni Perché Soprattutto È una settimana Le immagini Potete Che vedete Sono Vengono dalla città Di Stepanakert Che è Si è proclamata Autoindipendente Dalla In Armenia Dalla Azerbaijan E Una settimana Di bombardamenti Su questa città Ovviamente Poi Una città Che si è Proclamata Indipendente Però È stata riconosciuta Solamente Da tre stati Al mondo Non appartenenti All'ONU Oggi Poi è arrivato L'ultimatum Del presidente Azzero Ilan Aliyev All'Armenia Interrompete I combattimenti E chiedete Scusa La leadership Dell'Armenia Dovrebbe pensare Attentamente Prima che sia Troppo tardi Ha avvertito Il leader De Baku Intimando Alle forze Armene Di lasciare I nostri Territori E non a parole Ma nei fatti Intanto Razzi Morti E distruzioni Stanno continuando A colpire La zona Del Nagorno Karabakh Che è appunto Al centro Della disputa Fra questi due stati Tornando a parlare Poi di coronavirus Dopo che Trump È stato dimesso Dall'ospedale Di Bethesda Dove era in cura La situazione Si fa grave In diversi paesi Del mondo Se gli Stati Uniti Rimangono il primo Paese in lista Per numero di contagi E di morti Con quasi 7 milioni E mezzo Di positivi E oltre 200 mila morti L'India purtroppo Ha quasi raggiunto La soglia critica Delle 6 milioni E 700 mila casi In Europa invece La tensione L'attenzione Si sta concentrando In particolare Su due paesi Il Regno Unito E la Spagna Il Regno Unito È alle prese Con quasi Mezzo milione Di positivi E infatti Poi c'è un caso All'interno Di questi dati Da coronavirus Perché sembrerebbe Che Londra Per un errore Materiale O tecnico Non abbia riportato 16 mila casi Di positività Registrati Fra il 25 settembre E il 2 ottobre Scorso Intanto Poi c'è l'indice Che è da tenere Sotto controllo Che è quello Dei nuovi casi Per 100 mila Abitanti Nel Regno Unito Questa cifra Ha raggiunto Il 175,5 Che indicano Che ci sono Quasi 176 persone positive Ogni 100 mila Abitanti Situazione Situazione che è peggiore Anche in Spagna Ragazzi Perché il numero Di nuovi contagi Per 100 mila Abitanti Nella penisola iberica È oltre quota 300 Quasi praticamente Il doppio Di quello Regno Unito E in Spagna La situazione epidemiologica Come vedete Segna 813 mila 412 Positivi Registrati Dall'inizio Dell'epidemia Per questo Le autorità spagnole Hanno deciso Di attuare Una serie Di limitazione La circolazione Per quasi 5 milioni E 200 mila Spagnoli Di questi Addirittura 4,7 milioni Sono nella Capitale Madrid Questa era L'ultima notizia Per questo mio breve Approfondimento Dedicato agli esteri Io vi ringrazio E alla prossima puntata Grazie Aurora Grazie Diana Il nostro collega Lorenzo Ranchi Per questo escursus Su quanto accaduto In questa Settimana Fuori dall'Italia Soprattutto Poi per quanto riguarda Gli Stati Uniti L'Election Day Manca veramente Poco Sempre di meno A novembre Quando appunto Gli elettori americani Dovranno votare Ultimo argomento Era stata La Spagna Riprendiamo da qui Lo facciamo Con il nostro ospite Sì vado subito A salutare E ringraziare Per essere qui con noi Il dottor Benedetto Ierpo Chirurgo Direttamente In collegamento Da Barcellona Buonasera dottore Grazie per aver accettato Il nostro invito Buonasera Buonasera a tutti voi Grazie per invitarmi Un piacere Allora dottor Ierpo Ierpo Abbiamo parlato appunto Della situazione di Madrid Dove sono entrate in vigore Delle misure restrittive Per limitare la diffusione Dei contagi Qual è invece la situazione A Barcellona Nella Barcellona Che è poi la capitale Della Cataluña Questa regione Molto grande Per ora la situazione Non è certamente Tra le migliori Però nel contesto Della situazione spagnola Sicuramente è meglio Qui per ora Non ci sono restrizioni A parte come in Italia Un po' è obbligo Come la capitale Quindi è tutta la regione Che per adesso Ha delle restrizioni In Italia Si parla tanto Della pressione Sul sistema sanitario Quando appunto Crescono i contagi Qual è la situazione Negli ospedali Di Barcellona Ok Sì Qui la situazione Sanitaria È molto simile Diciamo A quella italiana Anche qui Non si sono fatti Molti investimenti Negli ultimi anni E quindi Adesso Paghiamo il prezzo Difficile Diciamo Calcolare dei numeri Ci sono degli ospedali Che hanno Una percentuale Di oltre il 50% Di ricoveri Covid E quindi vuol dire Anche che La loro capacità Diciamo Di assistenza sanitaria Normale Ridotta al 50% Ed altri ospedali Che invece hanno Hanno semplicemente 15-20% Che non è basso Ma già Non è così in alto Difficile però Adesso fare una media Invece la situazione A Madrid È un po' più complicata Perché è vero Che ci sono anche ospedali Che hanno Già un 90% Della loro attività Dedicata esclusivamente Al Covid Per questo motivo Per mantenere ancora Una disponibilità Di distanze In terapia intensiva Che poi di questo Si parla Proprio nella Nella regione di Madrid Si sono attivate Queste restrizioni La situazione È molto Diciamo Un po' A macchia di leopardo In tutta la Spagna Ci sono anche altre regioni Come quella di Castilla León Che non è Così come Madrid Ma non è anche così buona Come in Catalogna Anche loro hanno Diciamo Anche i problemi di governance Tra i problemi sociali Si parla Di quella della Botteillon Spero di averla Pronunciata correttamente Sì È il Botteillon Ma insomma Molto ben detto Di che cosa si tratta? Perché potrebbe essere Questo uno dei fattori Che hanno riacceso O hanno fatto risalire La curva dei contagi? Ma innanzitutto Vi spiego un poco Cos'è il Botteillon Che sicuramente I peggiori Neanche italiani Lo conoscono Che si riferisce Fondamentalmente A quelle feste Che si fanno All'aria aperta Portandosi Dell'alcol da casa Logicamente Insomma I giovani Non hanno molti soldi Per spendere Quindi proviscono Comprarsi l'alcol E poi insomma Si riuniscono Nelle piazze O nei parchi E lì si divertono Però sinceramente Dare una causa Al Botteillon Alla riacotizzazione Del virus in Spagna Mi sembra Piuttosto una speculazione Diciamo giornalistica O una curiosità Che non credo Che sia così importante Io non penso Che sia adesso Proprio il Botteillon Piuttosto magari Un problema Piuttosto organizzativo Della Spagna In Italia Devo dire Che l'ha fatta molto bene Soprattutto ha controllato Meravigliosamente I focolai La tracciabilità È stata molto importante Cosa che qui invece Spagna Non si è fatto Quando ci sono stati Di focolai Alcune regioni Le hanno controllate Meglio di altre E anche un'altra nota Che è importante In Italia Mi sembra che sia ancora O l'unico O uno dei pochi paesi In tutta l'Europa Che continua a mantenere Lo stato d'allarma Che significa È stato prorogato Proprio Sarà prorogato Proprio nelle prossime ore Esattamente Esattamente So che è anche molto criticato Però il mio punto di vista È stato umile Invece no Che lo stato d'allarma È molto importante Perché permette In qualche modo Coordinare In maniera un po' più ordinata Diciamo Le varie regioni In modo tale Che si seguono Le stesse linee guida Invece negli altri paesi Come sempre Spagna Non c'è questo stato d'allarma E che significa? Significa che Ogni regione si organizza Non c'è un criterio unico E per cui Questo è uno dei motivi Per cui vediamo Che ci sono Alcune regioni Che hanno un numero più alto E altri che hanno un numero più basso Alcune che hanno È obbligatorio Diciamo La mascherina Altre che Non è così obbligatorio Orari di apertura Dei locali diversi Insomma Tutto questo fa Che in una stessa nazione Ci siano Diversi criteri Invece in cambio in Italia Ecco Quali sono le regole Per Barcellona? Per Barcellona Per adesso È obbligatorio Semplicemente La mascherina I locali Sono Al 50% Di possibilità Di entrare E non ci sono Molte più limitazioni A parte Il distanzamento sociale E tutto il resto Insomma Dottor Rielpo Sempre secondo i giornali Il luogo di infezione È più frequente In Spagna Restano le case private Perché ancora Non è stato compreso Il rischio di infezione Nella stessa casa Sì Sì Il problema è questo Che Quando c'è C'è l'infezione Di un caso Di un familiare È difficile capire Se poi Tutta la famiglia E che tipo di famiglia Deve mantenere queste restrizioni Logicamente Se c'è un figlio Un familiare Di primo grado Che sia stato infettato Logicamente Tutta la famiglia Dovrebbe rimanere Confinata Però poi Il dubbio è Se ci sono stati Degli amici O familiari Di secondo grado E capire bene Se devono stare Anche loro In restrizione Il problema È anche la disponibilità Del test Perché logicamente Se ci si fa Un test Ed è negativo Allora Logicamente Si può rompere Questa restrizione Il problema È proprio La disponibilità La disponibilità Del test E poi anche Logicamente Come me Nel mio caso Delle famiglie numerose Quando si hanno tre figli Se uno ad esempio Dei miei figli Va in una scuola Dove c'è stato Un positivo Lì Qual è l'organizzazione Logicamente Si deve vedere Caso per caso Se Logicamente Anche la famiglia Quindi nel mio caso La mia famiglia Di mio figlio Che comunque È un test negativo Poi Deve rimanere In restrizione O no Insomma Bisogna valutare Caso per caso Questo sì Quanto la riapertura Delle scuole Poi abbiamo visto Che questi casi In realtà Questo aumento Dei casi Più che per le scuole E per i trasporti Almeno Nella capitale Ma anche In altre città Com'è invece Sempre a Barcellona La situazione Innanzitutto Delle scuole E poi anche Dei trasporti Come la state vivendo? Ok Però adesso la scuola Sembra che sia In maniera abbastanza Uniforme Un po' tutta Europa Non sembra che abbiano Aumentato tantissimo Le classi Che si siano chiuse Per dei positivi Che ci sono stati Però insomma I percentuali Sono veramente pochi Come dicevi bene Effettivamente Il problema è proprio Quello che c'è Intorno alla scuola Il trasporto Dove sì Che effettivamente Insomma Si viaggia in autobus Nelle metropolitane Con parecchia gente È difficile Lì il distanziamento sociale Nonostante la mascherina Aumenta un po' Anche il traffico Logicamente Perché tutti quanti Se prima andavano Con questi trasporti pubblici O trasporti Organizzati della scuola Adesso si va tutti in macchina Quindi c'è un po' più di traffico Ed effettivamente Lì è il contesto Secondo me Dove Sì che ci si può contaminare Dove Dove si può trasmettere il virus Però devo dire la verità Ancora Non ci sono state Molte Molte classi Molte scuole Chiuse L'organizzazione Sembra abbastanza buona Tutto questo aspetto Vedremo comunque Nelle prossime settimane Dottore Tornando Alla riacutizzazione Insomma Della virulenza Del virus Alcuni epidemiologi Intentificano L'errore Appunto Nella mancanza Di un approccio Graduale Dalla fase 2 Alla fase 3 Secondo lei È così? Sì Probabilmente È così Infatti Uno dei motivi Per cui Qui in Spagna I numeri Si sono Mantenuti Alti Perché Qui si parla di Mantenelli Nel senso che Non sono scesi Così tanto Come in Italia Il motivo Pro perché L'Italia Ha cominciato Lockdown Prima della Spagna E poi ha avuto Un po' più di tempo Per questa riapertura Graduale Invece in Spagna Non c'è stata Questa gradualità Pro perché Se apre una nazione Varie devono aprire Anche Spagna Logicamente Quindi Quasi non esistita Questa gradualità E qui Si sta pagando Il prezzo Dei numeri Altri Insomma La Spagna È aperto Con dei numeri Più alti E questo numero Si mantiene Elevato Difficile A diminuire Quindi secondo me Anche secondo me È una cosa molto importante Uno dei fattori Che è in fluide Ecco Siamo in chiusura Ma abbiamo veramente Pochi minuti Però Ci tengo Sinceramente Ci tendiamo Entrambe A far capire Quali sono Gli effetti Del virus Come poi Voi lavorate Voi sanitari Perché lo abbiamo Visto più e più volte Le persone magari Non si rendono conto Innanzitutto Di cosa comporta Per alcune persone Non per tutti Per fortuna Avere questo virus E soprattutto Cosa comporta Per voi Lavoratori In ambito sanitario Lei un medico O chirurgo Come la state Affrontando Com'è affrontare Quest'epidemia Dall'altra parte Dalla parte Della parte del medico Beh io Non ho nessun segreto Da dire Di come affrontare Quest'epidemia Semplicemente Quello che posso Dare la mia testimonianza Io come chirurgo generale Praticamente Passo le mie giornate Con la mascherina Con o senza virus Sono anni Sono oltre 10 anni Che la nostra vita Da chirurghi È così E quindi Insomma Io mi lamento molto Con le persone Che invece Sono un po' reticenti A portare A indossare la mascherina Questo succede Molto spesso Anche qui a Barcellona Che sono molti giovani Logicamente E alcuni Li vedo Che non indossano La mascherina E quindi Insomma Io penso che Il miglior vaccino Adesso È la mascherina Noi abbiamo Tutti i giorni Contatto con pazienti Che hanno dei virus E molto spesso Ci chiamano Per dirci Che ad esempio Si ho visitato un paziente E ci dicono Dopo qualche giorno Che quel paziente Che abbiamo visitato Aveva un virus Ma semplicemente Per il fatto Di indossare una mascherina E di portare Il paziente Il rischio è Bassissimo Ed è veramente Bassissimo Il rischio Che un sanitario Che un medico Un infermiere Chiunque Tra lavori Nella sanità Si possa infettare Se c'è Il doppio uso Della mascherina Quindi Lo ripeto Adesso Non c'è un vaccino Ma abbiamo la mascherina E bisogna usarla Bene Noi cogliamo Il suo appello L'ultima domanda Davvero Dottor Yelpo Per quanto riguarda La sua personalissima esperienza E i dispositivi Di protezione personale C'è stata carenza Nella sua Appunto Dove lavora lei Sì Bene Alla prima ondata Certamente Come in tutto il mondo C'è stata questa carenza Nessuno era preparato Logicamente A quello che è successo Adesso C'è una carenza Diciamo Dei test Che arrivano Logicamente Ci sono Però arrivano Con Un po' di Un po' di ritardo Adesso vedremo Che succede In questa Seconda ondata Adesso a me Non mi piace molto Chiamare la seconda ondata È più una mareggiata Dottor Yelpo In collegamento In collegamento Da Barcellona Per averci fatto Questo punto Della situazione In Spagna Grazie Dottor Yelpo Buona giornata E buon lavoro Grazie ancora Grazie a tutti voi E buona serata Anche a voi Un saluto a tutti quanti A presto Ecco Aurora Io prenderei Questo proprio minuto Prima di chiudere Per ricordare A tutti i nostri Telespettatori Perché ci sono stati appelli Da più parti Soprattutto poi Dal Ministero della Salute Dal Ministro della Salute Roberto Speranza Per scaricare l'app Immuni Esatto Noi come appunto Come organi di informazione Ve lo dobbiamo ricordare Scaricate l'app Che il tracciamento È una parte fondamentale Per la lotta Importantissima Scaricatela Scarichiamola tutti In modo tale Di essere più protetti Bene E termina qui Questa nostra puntata Del martedì di Restart Noi torniamo domani Puntuali alle 17 Buona serata Presto Con il vento Letto